Una froda informatica affruttata ad un hacker rumeno di 28 anni, 4.000 euro. Ad essere presa di mira una società di San Giovanni a Piro, l'uomo si è introdotto nel loro sistema e stava prosciugando il conto di un cliente. I carabinieri della stazione locale hanno ricevuto la segnalazione da parte dei gestori che si erano accorti dell'intromissione furtiva nei loro sistemi e hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I gnoti, modificando il codice IBAN di un creditore, erano riusciti ad appropriarsi della somma di 4.000 euro. I militari hanno avviato le indagini ricostruendo le reti di contatto degli IP che avevano autorizzato le transazioni e le tracce informatiche che li hanno condotti fino in Piemonte. Era qui la base di hackeraggio tra le mura domestiche del giovane rumeno. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà nella giornata di mercoledì dai carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro. Il 28enne ora deve rispondere dei reati di frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico. La società colpita intanto ha immediatamente messo in atto tutte le procedure per proteggere ulteriormente gli account di tutti i clienti, mentre i carabinieri stanno continuando ad indagare per capire se ci sia il coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda.